Ciao Massimo, ciao Massimo 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 No, no, no! No, no! No, no! No, no! No, no! Non è la mia regione! Non è la mia regione! No, no! Allora, tutti lo santi io che devo fare è quelli che io non ho la mia stalla. Allora! La mia regione! La mia regione! Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.